Di nuovo in studio con il programma Beautiful Life e con le nostre ospiti che intanto hanno ultimato le loro creazioni. Cristina, allora hai concluso con l'acconciatura, adesso passiamo all'applicazione del gioiello. L'applicazione del famoso gioiello. Realizzato dalla nostra signora qui presente, che lo ha realizzato come? In macramè o in chiacchierino? Chiacchierino. Questo qui è realizzato in chiacchierino, il filato è un lame. Abbiamo scelto un colore dorato che si abbina molto bene con i riflessi di Marisa, giusto Cristina? Sì, valorizza un po' l'effetto del mare perché tra poco... L'effetto luminoso del biondo, dei capelli. E lo hai applicato semplicemente con una finzettina? Semplice, sì sì. Quindi non ci vuole proprio nulla, proprio anche per abbellire il capello e l'acconciatura. E poi sempre, se si vuole avere un'altra idea, noi valorizziamo anche il vestito. Bene, quindi riprendiamo lo stesso colore del gioiello nei capelli. Sì. E quindi basta mettere una spionnina, ecco qua. E questo gioiello l'ha realizzato sempre la nostra giola. È sempre al chiacchierino. È sempre al chiacchierino. Mentre lei ha ultimato il suo fiore, quindi che è andata a realizzare in precedenza, perché ripetiamo, per dei tempi tecnici non abbiamo potuto far vedere tutta la lavorazione. Ma questo è il risultato. E questo è il risultato, sì. Le sfumature, i colori... Colori particolari. E diciamo che in Peru si chiama mandala ed è un portafortuna. Bene. Questa è l'origine di questo fiore. Bene, che direi, io ringrazio la signora Giola e Cristina per la presenza, per la speciale presenza qui al programma Beautiful Life. È stato un piacere. Perché veramente ci hanno deliziato con queste loro creazioni. Cristina, ricordiamo i riferimenti per far sì che le persone possano venire da te. Allora, il mio negozio si trova in via attraverso Ortenzo Pepe, Santa Maria di Castellabate. Si chiama Artmodo Quaffer. Il mio cellulare è 338-9404-542. Chi vuole prendere o per appuntamento o fissare una pronotazione, siamo sempre disponibili. Bene, un ringraziamento va anche alla tua splendida modella che oggi si è prestata per questa acconciatura. Marisa, grazie anche a te. E un grazie particolare alla nostra simpaticissima signora Giola che anche per lei ricordiamo come fare per poter venire a visionare queste bellissime creazioni particolari. Per poter venire dal suo negozio, ho qualcosa in esposizione, chi lo richiede posso sempre fargli vedere come si fa, come si elabora il chiacchierino, il magramello. Anche quello, sì, anche quello. La signora è disponibile anche a impartire lezioni, quindi va bene, io rinnovo ancora i ringraziamenti e grazie a tutti i nostri telespettatori e appuntamento ad una prossima puntata sempre qui a Cilento Channel con Beautiful Life. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. Grazie.